un saluto a tutti da z amici bentornati sul mio canale e benvenuti in questa nuova serie di video particolari direi mai affrontata su questo canale però siccome ho un po sparlato a vanvera per quello che riguarda farming simulator 2019 soprattutto messo a confronto con cattle and crops che è ancora in fase di sperimentazione in realtà visto i nuovi trailer visto anche il gamescom mi sono dovuto ricredere perché c'è stato fatto parecchio lavoro in realtà e quindi volevo preparare fra virgolette questa serie di video che includeranno i vari trailer usciti e i vari tour per il gameplay fatti al gamescom partendo da questo video che sarà sostanzialmente un tour del gamescom con qualche gameplay purtroppo la qualità video è quella che è perché è stato comunque ripreso da qualcosa di abbastanza scadente fra virgolette e vabbè partiamo intanto dal sito ufficiale partiamo dal sito ufficiale e vediamo che si può già pre ordinare farming simulator 19 al costo di 3499 disponibile per praticamente tutto e cosa che salta all'occhio dalla copertina che dovrebbe essere già ufficiale e a parte ovviamente i nuovi marchi il nuovo marchio in game ufficiale John Deere abbiamo anche del cotone cotone che si è vero è una mod del cotone c'era già nel farming 2009 se non sbaglio nulla di nuovo messa in game finalmente potremmo dire all'acquisto all'acquisto del gioco allora che altro vediamo nelle news qui c'è un trailer e vedete già il personaggio a cavallo ma ne parleremo in un prossimo video ci sono molti aspetti nuovi di questo gioco che sviluppi più che altro che andremo a vedere insieme c'è stato anche il farm con 18 dove è stata presentata è stata fatta nella sede della ors quindi sono stati presentati i marchi che si sono legati all'azienda in esclusiva e quindi andiamo a vedere il trailer mi corrego ragazzi più che trailer è un tour per quello che è stato il gamescom 2018 svolto se non ricordo male a colonia in germania patria ovviamente di farm simulator direi di farlo partire e vedere un attimino intanto vi fermo subito perché qui vediamo la data di uscita che si parla del abbiate pazienza un attimo si parla del 20 novembre 2018 per quello che riguarda pc e le due console di punta next gen partiamo subito con vabbè lo stand chiaramente come al solito super super attrezzato con john deere e il cavallo fatto un po così postazione con volante e pad dedicati e adesso in teoria comincia un po di gameplay partiamo subito con questa irroratrice ardi la rubicon 9000 marchio un po forse tralasciato negli anni scorsi ottima irroratrice e all'irroratore le barre irroratrici sul frontale bella l'animazione delle scale però vi fermo un attimo perché vorrei farvi notare qui in alto sembrano molto migliorati a parte la betoniera che passa sembrano parecchio migliorati migliorato quello che riguarda gli alberi vedete che hanno le foglie un po più tridimensionali e un po meno cartone animato come era nelle precedenti versioni lampeggianti anche fatti molto bene ma vedremo poi vedete il lampeggio non è per niente male migliorato anche il sistema di sospensioni e bilanciamento dei pesi non ottimizzato al massimo a mio parere anche perché c'è chi ha fatto di meglio ci fermiamo subito per vedere un attimino anche l'interfaccia di gioco in alto a destra abbiamo condizioni climatiche ora ovviamente i soldi a sinistra invece abbiamo come sempre tutti i comandi che a differenza delle volte scorse questa volta le hanno messe molto trasparenti in modo da poter avere una visuale più ampia stessa cosa vale per il contachilometri in alto a destra contachilometri abbiamo il gasolio e a sinistra invece la manutenzione dei mezzi che andrà tenuta sotto controllo e presumo anche valori perché la manutenzione farà sì che il valore del mezzo cambi e qui affronteremo un altro discorso molto particolare che varrà la pena vedere qui abbiamo ovviamente il serbatoio la capacità del serbatoio con la barra di riempimento andiamo avanti a vedere questo video perché è una grossa novità è stata proprio questa che le erbace una volta errorato il campo seccheranno come potete vedere in maniera un po troppo istantanea secondo me potevano farlo che magari dopo qualche qualche tempo seccassero una volta passato il passati con l'eroratrice purtroppo spero si possa cambiare nel menu di gioco questa impostazione un po come come era la crescita delle colture no purtroppo qui seccano istantaneamente non è proprio il massimo però vabbè vedete se avete visto un uccello volare via anche quella è una novità sembra che ce ne siano un po troppi migliorato molto è il fatto della dinamicità delle piante cosa voglio dire con questo le piante non potranno sia essere schiacciate e sia saranno dinamiche ovvero quando noi andiamo a toccare per esempio con la barra del mais per quello che riguardano amiti trebbia una trincia le piante di mais rimanevano fisse in piedi fino a quando venivano tagliate c'era l'animazione del taglio e dell'entrata nella nella trincia o mesi trebbia che sia adesso invece si spostano perché sono sono dinamiche appunto se vengono toccate si spostano ottima questa cosa non avremo più compenetrazioni di spighe di grano nelle nostre barre del miti trebbie qui purtroppo vediamo già subito un punto a mio parere una piccolezza che ve la faccio vedere nuovamente che non ha che vedere con un simulatore perché noi in simulazione non potremmo tirare la testa di 360 gradi come i gufi ma ripeto sono piccolezze vabbè su cui purtroppo si perdono da un po troppi anni vedete qui gli uccelli in campo adesso farà vedere penso se non ricordo male che gli fa volare via un po tutti vedete che svolassano via sono cornacchie o cosa vedete anche le tracce che lascia che lascia lasciano i mezzi sul terreno dove laddove c'è terreno vengono lasciate proprio le impronte laddove c'è erba o culture oltre all'impronte viene lasciato anche viene visto lo schiacciamento della cultura o erba che sia dietro il passaggio delle ruote questa è una cosa molto bella particle del retro meti trebbia non mi entusiasma ma probabilmente inganna molto il fatto della ripresa è sicuramente stato ripreso un monitor con un telefono quindi non ci si può fare molto caso molto bella invece l'animazione per quello che riguarda il grano dentro dentro la vasca di riempimento vedete qui il campo a destra è infestato da erbace e lo stesso che penso abbia errorato prima e comunque anche se voi scegliete di non rilasciare l'andana di paglia vedete che comunque viene sparso il resto della spiga del grano o quello che sia viene sparso o triturato insomma dietro dietro di voi come è giusto che sia quindi anche questa è una piccola novità vedete qui è stato schiacciato proprio è stata schiacciata sia la coltura che l'erba poi si diverte a far scappare gli uccelli direi che possiamo andare un po più avanti qui c'è il rilascio dell'andana purtroppo è sempre legato un po diciamo che è un po troppo regolare non male l'animazione del fumo mi ha un po deluso quella del della coltura quando attraversa la barra purtroppo quello è uno scalino che ancora bisogna superare non male le texture del terreno invece non male veicoli ovviamente fatti bene fatti bene sia a livello di modellazione 3d sia a livello di texture migliorati sicuramente vi ricordo che questa versione avrà un nuovo motore grafico rispetto alla versione precedente e questo fa sì che possono avvenire molti cambiamenti a livello di gioco sperando comunque di mantenerlo abbastanza fluido anche magari con chi non ha pc top molto bello anche il fatto di poter vedere dietro il cassone di carico la vasca qui ci fa vedere il treno ambientazione sembra un po non so austria germania insomma paesi comunque montuosi anche la locomotiva da molto quell'idea mappa si sembra fatta anche abbastanza bene ripeto gli alberi mi hanno colpito ci hanno lavorato parecchio molto probabilmente grazie anche al nuovo motore grafico anche perché fare un albero in tre dimensioni così e spargerne a tonnellate per la mappa richiede veramente un processo di elaborazione dati da parte delle schede video non indifferente quindi siccome come requisiti minimi che andremo a vedere più tardi dovrebbe essere richiesta un addirittura un non ricordo li andiamo a vedere dopo non sono comunque estremi vabbè qui si fa il diretto del treno non è male non è male anche la l'interno dei veicoli è fatto molto bene devo dire la verità stavolta ha fatto un buon lavoro anche la mappa non mi dispiace così un po montuoso a collinare non male non male qui si fa tutta la mappa col treno guardate come va su bello è abbiamo una cascata due cascate non è non è fatto male l'animazione dell'acqua poi purtroppo essendo un gameplay ripreso col telefono da uno schermo non è chiaramente il massimo a livello di grafica però promette bene dai mettiamola così allora qui siamo su un zone dire andiamo a vedere andiamo a vedere nuove nuovi particolari anche qui interni c'è poco da dire sono fatti molto bene e vedete anche la strumentazione molto fedele è fatta davvero molto bene i valori cambiano quindi è fatto davvero bene vedete anche si nota abbastanza bene anche l'ammortizzazione del sedile con le buche infatti vedete che anche i comandi e la cloche si muovono con il sedile in realtà purtroppo se volevano fare una cosa fatta bene doveva muoversi anche la visuale se noi siamo seduti sul sedile però altre piccolezze che in un simulatore dovrebbero essere abbastanza basilari però va bene adesso dovrebbe far vedere se non ricordo male il fatto degli ammortizzatori che dovrebbero essere migliorati abbastanza vedete qui le colture si muovono quindi quello che vi dicevo prima in questo caso non si schiacciano perché probabilmente non non è attiva l'opzione nel menu vedete si schiacciano a seconda del passaggio se si spostano in questo caso non si schiacciano allora volevo passare al momento in cui allora questa è la farm particolarità della farm è che possiamo gestirla e costruirla interamente noi e questa è una gran figata che non mi aspettavo scusate non me l'aspettavo per niente qualsiasi oggetto cioè noi possiamo anche cominciare dal nulla con dei soldi da investire e sceglierci i campi che vogliamo acquistare e posizionare gli edifici della nostra farm cosa molto molto bella io presumo e spero che da questo punto di vista il terreno sia dinamico che sia adatti alle varie costruzioni o che ci sia una sorta di terraformazione per poter spianare un po' il tutto perché se il sistema è rimasto come nei vecchi farming dove gli oggetti posizionabili erano molto difficili da posizionare in quanto mancavano effettivamente piani su cui metterli diventa difficile ecco diventa un po' difficile si la stanza qua è un po' spoglia effettivamente comunque sembra il classico la classica farm fra virgolette di montagna mettiamola lì un po' sull'austriaco andante che non mi dispiace e sono sincero poi ovviamente un anzichè godersi il primo gameplay sale sui tetti e vabbè va bene ok abbiamo visto l'edificio questa è la casa non si può interagire molto vedete lo stile proprio austriaco qui è sono le classiche sedie che non mi ricordo come si chiamano ma arredamento in pino classico con il giro panca e le sedie con il cuore lì col foro a forma di cuore vetrinetta tipicamente austriaca vabbè andiamo avanti qui c'è una sorta di officina ma c'è un bel silo ritorniamo sul nostro trattore e vediamo di vedete in realtà si muove si vede bene che si muove l'animazione del sedile di come ammortizza è fatto bene purtroppo però con la visuale interna non si nota non si nota per niente vedete gli ammortizzatori sono stati resi praticamente indipendenti anche se c'è margine di miglioramento perché non sono proprio realistici al cento per cento stessa cosa i pneumatici pneumatici dovrebbero essere un po' meno duri mettiamola così dovrebbero essere un po' più più morbidi invece dall'effetto plastica ecco per capirci vedete quello che intendevo qui con le spighe di di gran turco si si vede molto bene come si spostano bella questa cosa mi è piaciuta ok facciamo le corse nel grano edifici tipicamente austriaci presumo piccolo supermercato la chiesetta alla piazza qui c'è un silo siamo al porto no si è curato abbastanza bene nei dettagli vedete le texture anche degli edifici non è lasciato al caso mettiamola così però ci sono alcune cose che mi hanno davvero stupito e altre che poi andremo a vedere più approfonditamente magari in altri video e altre che invece mi hanno lasciato un po' così si però dalla jant software ci si aspetta un po' di tutto anche perchè molti lamentano il fatto per esempio del terreno dinamico si è vero non c'è il terreno dinamico e purtroppo è sempre stata una lacuna non c'è mai stato e purtroppo finchè un modder non creerà una sorta di terreno dinamico per questo gli sviluppatori non potranno rubarlo e metterlo nella versione successiva di gioco questo è qui vediamo uno sputo di di menu di gioco che è quello che riguarda le finanze nulla che si possa interessare granché mi aspettavo qualcosa di più di poter vedere qualcosa di più menu più o meno è sempre quello poi io il tedesco per me è assolutamente arabo bene il tutorial il tutorial scusate il video il tour del gamescom è praticamente finito quindi io vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto se volete andare avanti a vedere varie info commentate insomma i vari video commentati da me poi mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate anche voi e potete farlo lasciando un commento qui sotto chiaramente e se volete iscrivetevi anche al canale attivando la campanella per restare aggiornati sull'uscita dei prossimi video direi che da Zed per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video ciao